allora ricordatevi di questo punto adesso vi voglio far vedere il giro che mi posso fare qua a casa mia che abito in campagna computerino lo facciamo partire computerino facciamo partire il circolato potrei fare per allenarmi in bicicletta però non mi alleno in bicicletta perché mi annoia però a correre a piedi mi diverte quindi qua c'è il computerino lo facciamo partire un attimo corsa all'aperto allora ci metto circa sette minuti a fare un giro è un chilometro più o meno 300 metri allora pronto ok faccio partire start facciamo il giro con me insieme perché qualcuno ci credeva che c'è la possibilità di fare un giro così lungo allora io adesso ve lo faccio vedere tutto il giro della mia campagna il top youtuber dice sempre la verità non ha bisogno di vantarsi di cose che non esistono allora faccio solo la circonferenza quindi qui c'è confine vediamo andiamo車 chiaramente del confine so fresta ovviamente si io poi faccio sui 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 le pianteりますi costano fuori ormai invece che faccio su e giu per ogni via dino che poi faccio la speranza tiene la memoria di sette minuti perché ho poca memoria su questo duecento metri confine di campagna che non sono di mia propria allenare però hanno detto di non uscire di casa io di casa non esco e questo il giardino di casa mia cioè se taglio qua su questi piccoletti posso allungare la circonferenza e scesetta poi si può fare per l'altro ok tanti metri questo è il filo di inocchio se io faccio su e giù qui scappa fuori tre quattro chilometri in giro anche di più ma fino a di sotto vedete da tutto sotto che ci vuole ci vuole ci vuole andare che sempre qua è lavorato non ci vado 580 metri con la mountain bike o ciclocross su un'ottima linea da dentro ripeto eh solo circonferenza faccio avanti e dietro vedete la rete solo circonferenza siamo quasi a metà percorso quasi ok io venivo dall'altra parte qui c'è il campo lavorato quindi non ci cammino questo è il punto che vi avevo fatto vedere prima io stavo dall'altra parte sto 790 metri ok vai qualcuno voleva vedere il circuito ve lo faccio vedere non ve lo faccio vedere a piedi però c'è in bicicletta però lo faccio vedere a piedi ovviamente qui c'è un po' zerbaccia vai sono arrivato al confine e qualora è più cosa mia vai che continuo vai 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 5 minuti se tiene la batteria sono più di un chilometro uno e due uno e tre spero che tiena la batteria se no sembra che vi ricoccavolate qui salita questo invece ci si allena bene suona un chilometro vedete un chilometro cinque minuti e venti tre non ci siamo arrivati mancano 200 metri allora io potrei continuare qui ma esco qua a bordo tra campagna e asfalto manca poco 200 metri ripeto eh faccio modo per allungare ma solo circonferenza qui sono tutte strade che se voglio giro tra le piante di olivo e nocchie e allungo ma non lo faccio solo circonferenza ecco il punto di prima ecco la casa qui dove sono partito prima ok 7 minuti e mezzo ecco qua un chilometro 230 metri solo per i top youtuber che non mettono mai dicono solo la verità pollice in su sempre martina martina luce c'è